BOOM! Eccoci qui in diretta, Fabio Gallerani, Power Hour! Che dire ragazzi, un po' di tempo che non ci vediamo, ma sono tornato, sono sempre più convinto e deciso ad aiutarti già adesso, all'inizio di questo 2019, che tu devi assolutamente dominare. Se non mi conosci, mi presento, io sono Fabio Gallerani, sono il punto di riferimento per imprenditori e liberi professionisti che vogliono di più. Sono stanchi della mediocrità e vogliono andare là fuori e aumentare il proprio fatturato, aumentare i propri risultati e finire di vivere nella mediocrità, nella paura di non arrivare a fine mesi, nella paura di chiudere la propria azienda, la propria attività, nella paura di tornare indietro. In questo Power Hour restiamo assieme un'ora, fermiamo il tempo, come vedi qui c'è un orologio e ho fermato il tempo alle 8 di sera, perché? Perché in quest'ora parliamo di un argomento che ti serve per aumentare il tuo fatturato, aumentare il tuo successo e quindi non c'è tempo che tenga, la palla che ti racconti, non ho tempo, in questo live, in questo show non esiste. Sono in un nuovo studio, è un setup differente, dalla regia mi dicono che non sei mai visto così bene, quindi sono felicissimo, vado a collegarmi per salutarti in diretta e ti chiedo di condividere questo live. Il più grande regalo che puoi farmi in questo inizio 2019 è aiutarmi a mandarla fuori, la mia voce. Oggi ho un grandissimo argomento di cui parlare, te ne parlerò proprio adesso e soprattutto ho un video inedito che è stato editato proprio oggi, che voglio mostrarti a metà di questo show. Vado a vedere un po' chi è in diretta, vediamo un po', vediamo un po', voglio salutarti personalmente e voglio anche ringraziarti perché molte persone a cui ho fatto un regalo all'inizio di quest'anno, vi ho regalato, ti ho regalato, se sei nella mia lista, il mio goal planner, il mio planner per gli obiettivi. Molte persone mi hanno scritto e mi hanno detto, ho già scritto gli obiettivi, sto già iniziando a fare azione, quindi sono orgoglioso di te. Andiamo a vedere un po' chi è in diretta in questo primo live del 2019. Molte persone mi dicevano, ma dove sei finito? Purtroppo anch'io sono umano, ho avuto l'influenza, ho avuto momenti in cui ho approfittato di questi momenti per concentrarmi, per capire di cosa ci fosse bisogno nel mercato e per la mia audience, le persone che mi seguono in questo 2019 e questa sera voglio iniziare con uno degli argomenti più richiesti che è, te lo dico subito, intanto ti saluto, vediamo un po', vediamo un po' chi c'è. Allora, chi è che si fa questo power hour con me oggi? Ione, Giovanna, Francesca, Giacomo, Daniele, Daniele, Roberto, Patrizio, dai salutatemi in diretta, Samuele, fatemi sentire il vostro saluto. Allora ragazzi, oggi parliamo di high income skills. High income skills, per chi non sapesse l'inglese, sono capacità altamente monetizzabili. E parliamo anche del perché in questo momento magari sei disoccupato, del perché in questo momento magari sei insoddisfatto, insoddisfatta del tuo lavoro, ti chiedi perché ti pagano così poco, non riesci a trovare una risposta. Bella risposta, te la do in questo live e tutto dipende da questa maledetta parola inglese, high income skills. Se tu non hai capacità altamente monetizzabili, purtroppo sei sostituibile sul mercato. E se sei sostituibile sul mercato, allora qualcun altro può rubarti il lavoro, può essere pagato di meno, quindi buttarti fuori nella competizione, e semplicemente sei uno dei tanti. Senza offesa, magari tu a livello personale sei sicuramente una persona unica, ma a livello professionale sei uno dei tanti. Questo vale anche se tu hai un business. Se hai un business e non ricerchi l'eccellenza e sei mediocre, purtroppo vieni sbattuto fuori dal mercato, fallisci, chiudi l'azienda. E per questa ragione che in questo live voglio trasformarti nella persona che va là fuori, si prende il tempo, investe in se stesso e sviluppa queste capacità altamente monetizzabili. Voglio sfidarti, fammi sapere nei commenti se conosci alcune di queste capacità, voglio sapere se sei familiare con questo tipo di informazioni, fammi sapere secondo te quali sono le capacità altamente monetizzabili. Ciao a tutti, vediamo un po'. Allora ragazzi, se a volte faccio così è perché sono ancora in fase di recupero, ma tutto nella tua testa. Come diceva il mio socio Matteo Pittaluga in un live poco tempo fa, diceva, non è quello che ti accade ciò che conta e come reagisci. In questo periodo anch'io sto affrontando delle sfide, ok? Tu pensi che Fabio Gallerani sia sempre deciso, carico, ma anch'io sto affrontando delle sfide mostruose che mi stanno mettendo in difficoltà e ti posso dire che come reagisci e l'avere persone da ispirare come te, magari in questa serata, in cui ti stai prendendo il tempo di ascoltarmi, questo costituisce la mia motivazione più grande per andare avanti, non lamentarmi e reagire al meglio ai problemi che anch'io affronto ogni giorno. Vediamo un po' intanto se qualcuno sta indovinando le high income skills. Ciao Elmila, Gianlena, Jessica, Tony, tutte le persone che stanno collegando. Vediamo un po', vediamo un po'. Secondo te, te che sei in diretta, quali sono delle capacità altamente monetizzabili? Sai perché è importante che tu faccia questa riflessione e capisca a fondo questo argomento? Perché una volta che tu capisci quali sono queste capacità e le sviluppi, niente ti può distruggere. Ti possono portare via tutto nella vita? Puoi rimanere sotto un ponte letteralmente, tu da solo, con te stesso, che se tu hai assimilato queste capacità, puoi andare là fuori e tornare a fare un pacco di soldi, ok? Pacco di soldi intendo dai 10.000 euro in su, solo per aver sviluppato una di queste capacità. Mentre mi rispondi voglio raccontarti la mia storia, voglio raccontarti la mia storia e il mio rapporto con questo tipo di capacità e il perché voglio farti da testimonial che quello che ti racconto questa sera riguardo a questo tipo di capacità è reale, è vero, perché io stesso ci sono passato. Allora nel 2010 sono partito per gli Stati Uniti per iscrivere un po' la mia vita, la mia storia e mi ricordo quando sono arrivato negli Stati Uniti bleffando pesantemente, perché? Perché bleffando? Perché mi sono fatto assumere come cameriere e uno dei requisiti fondamentali per essere assunti in questo grande ristorante americano era appunto avere esperienza in questo settore. Beh, io ho bleffato pesantemente, non avevo mai lavorato in vita mia. Quindi è arrivato negli Stati Uniti, parlavo malissimo l'inglese e mi sono reso conto velocemente che avevo una grande opportunità. La grande opportunità era quella di guadagnare delle mance, ok? Se non lo sapevi negli Stati Uniti quando fai il cameriere potresti fare davvero tanti soldi, soprattutto se sei giovane e hai bisogno di fare soldi. E perché? Perché le mance sono il 20%, erano il 20% sul conto. Però io parlavo male l'inglese, non parlavo assolutamente lo spagnolo e moltissimi clienti erano spagnoli e ero impacciato, non sapevo fare nulla. Quindi cos'ho deciso? Nel 2011 quando sono stato promosso come cameriere ho deciso di mettermi in gioco e sviluppare la mia prima high income skill che è quella di saper vendere, ok? Saper vendere. Saper vendere cosa? Saper vendere il più possibile ai clienti che si sedevano ai miei tavoli. Quindi cosa ho fatto? Mi sono chiuso in me stesso con una pila di libri così in inglese che io tra l'altro non parlavo per niente bene. Quindi se in questo momento non parli l'inglese o lo spagnolo beh sappi che io ero nella tua posizione poco tempo fa e cosa è successo? Ho iniziato a studiare, ho iniziato a studiare ma iniziavo ad applicare allo stesso tempo. La conoscenza non serve a nulla. Dicono che la conoscenza è potere, è una gran stronzata. La conoscenza non è potere, la conoscenza implementata è potere. Se tu sai un sacco di roba, quanta gente conosci che sa un pacco di roba che sa tutta la teoria del mondo, dieci lauree e poi quando si tratta di andare al grano a applicarla non valgono nulla. Non valgono nulla. Quindi quello che ho fatto io nel 2011 ho iniziato a implementare questa prima high income skills che mi ha permesso a soli 21 anni di riuscire a guadagnare 6-7 mila dollari al mese. E a quel punto il general manager del ristorante mi utilizzava proprio in senso vero e reale come trainer. Insegnavo agli altri camerieri a vendere. A vendere come in inglese. Una lingua che sapevo che dovevo sviluppare e che costituiva anche questa una income skill. Perché? Perché se tu parli più lingue allora puoi vendere a più persone. se tu puoi comunicare con più persone allora puoi fare più soldi. Quindi in quell'anno in cui cambiai totalmente la mia vita sviluppai due high income skill. Il parlare inglese e il vendere. Queste però sono high income skill di basso livello nel senso che tutti possono svilupparle. Nel senso che se tu vai a scuola di inglese oppure vai a un seminario sulla vendita e comunque sei una persona attiva puoi imparare queste high income skill. Cosa è successo poi? E' successo che mi hanno chiaramente licenziato perché mi ho visto durava un anno. Sono tornato in Europa e ho iniziato ad appropriarmi di un'altra high income skill. Perché? Perché sapevo che non era abbastanza quello che avevo. Anche se avevo raggiunto 6-7 mila dollari al mese negli Stati Uniti queste capacità non servivano in Italia. Facevo il venditore immobiliare, l'agente immobiliare. Facevo, vendevo, andavo a bussare. Non sapevo vendere realmente. Sapevo vendere a qualcuno che si sedeva su un tavolo e aveva un pacco di soldi da pagare. Quella non è saper vendere. Quello è saper semplicemente fare il tuo lavoro. Quindi, quello che è successo è che decisi di imparare lo spagnolo e decisi di mettermi in gioco. Non andando a scuola di spagnolo decisi di andare a vivere in Spagna. Mi ricordo ancora il mio primo giorno da venditore, da PR e quel giorno mi dissero tu devi andare a vendere in spagnolo. Io dissi ma io non parlo lo spagnolo. Non fa niente. Lo impari sulla strada. Quindi mi ricordo come fosse ieri e quell'estate in cui aggiunsi lo spagnolo al mio arsenale e lì stava diventando un po' più interessante. Sai perché stava diventando un po' più interessante? Perché parlavo inglese, spagnolo e italiano e sapevo vendere. Quindi Fabio Gallerani nel 2012 a 23 anni si ritrova magicamente in una posizione interessante perché dagli Stati Uniti arriva una chiamata e mi richiamano ad aprire un nuovo ristorante che tra l'altro l'ho aperto con il mio socio di adesso Davide Fox perché dove avevano preso i migliori venditori di sempre del padiglione italiano di questo posto mistico a Orlando, Florida e avevano preso quelli che vendevano di più, i più forti a vendere. Beh, allora hai capito che questa capacità che avevo mi ha permesso di guadagnarmi un altro contratto attenzione, un altro contratto da 60-70 mila dollari che a 23 anni fanno tutta la differenza del mondo. Dopodiché cosa è successo? Beh, che Fabio Gallerani ha sfruttato queste high income skill per non essere sostituibile. Quindi quello che ti sto dicendo è che se tu sei sostituibile in questo momento sul mercato hai un grosso problema perché ti pagano poco e qualcun altro ti può rubare il lavoro. Hai capito adesso l'importanza di queste capacità? Andiamo avanti nella storia. Intanto vediamo un po' se ci sono dei commenti perché non ho mai raccontato la mia storia su questo punto di vista, su questo piano attorno a un argomento di cui ti sto parlando questa sera. Vediamo un po' cosa si dice qui. Io dico sempre i soldi sono potere giusto se tu li sai generale con delle capacità altamente monetizzabili se no non li fai neanche nessuno ti paga. Eravamo a 300 km di distanza era Clearwater Tampa grandissimo Massimo Padula penso a te nella vita non si incontrano mai le persone fino a quando è il momento giusto. Pensa a te quanto è assurda la vita. Allora, cosa è successo? Beh, quando ho finito il mio secondo contratto negli Stati Uniti mi sono ritrovato Fabio Gallerani che parla tre lingue sa vendere adesso chi posso aiutare? Mi sono inventato in quel periodo un ruolo che uno dei miei mentor americani chiamava il catalyst il catalyst è l'intermediario la persona che mette in contatto due persone che possono fare business insieme. Quindi ho iniziato a girare il mondo andando in Sud America a Nord America a connettere questi imprenditori imparando tantissimo a livello imprenditoriale ma comunque non sviluppando nuove capacità altamente monetizzabili. Quindi Fabio Gallerani che sa parlare tre lingue che sa fare a vendere se non ha nulla da vendere e non è nell'ambiente giusto magicamente non faceva più un euro. E a quel punto iniziò la mia carriera imprenditoriale fallimentare perché? Perché avevo perso un po' la bussola non capivo realmente perché non riuscissi più a guadagnare nulla o almeno al livello di prima il perché non riuscissi a posizionarmi sul mercato e a definire il mio ruolo la ragione è perché le mie capacità altamente monetizzabili non erano uniche. Ok? Fammi sapere nei commenti scrivi in chat quante persone conosci che sanno vendere e parlano tre lingue? Ok? Magari due lingue ok? Inglese e italiano. Quante persone ci sono là fuori? Io penso che ce ne siano milioni solo in Italia. Ok? Quindi era relativamente importante le mie capacità altamente monetizzabili non erano così uniche e quindi non importa realmente la capacità che tu sviluppi ma importa quanto questa sia unica nel tuo mercato quanto questa sia insostituibile perché se no ci sarà sempre qualcun altro che trova l'opportunità prima di te e ti ruba il lavoro ti ruba l'opportunità ti ruba il denaro i soldi il successo Fammi sapere un po' nei commenti se capisci quello che voglio dirti cioè perché Fabio Gallerani questa sera e nella carriera imprenditoriale che sta affrontando adesso ha deciso di insegnare due high income skill in particolare di cui te ne parlo a breve una di queste la vedremo in un video inedito direttamente dall'ultimo evento che ho fatto dal vivo a Cervia perché Fabio Gallerani perché Fabio Gallerani ha vissuto il dramma di essere sostituibile ha vissuto il dramma anche imprenditoriale se tu sei un imprenditore ascolta bene quello che ti sto dicendo perché non è che se hai la tua bella azienda SRL SRLS eccetera eccetera partita IVA azienda all'estero alle Cayman dove ti pare sei salvo no tu sei ancora più fregato se non hai della capacità altamente monetizzabile perché perché la tua azienda può improvvisamente non riuscire più a vendere il suo prodotto ma tu imprenditore puoi rialzarti attraverso queste capacità quindi Fabio Gallerani 2015 inizia a capire che c'è qualcosa di più bisogna sviluppare una nuova capacità e nel 2015 per caso ma neanche tanto mi trovo in un gruppo ho chiamato Underground CPA che era un gruppo di pionieri del web marketing italiano eravamo io ero un gruppo di Cristian Sannino oggi il grande guru dell'affiliate marketing italiano Cristian Sannino aveva deciso di formare chi volesse imparare con questo gruppo Facebook a pagamento che costava 50 euro a vita incredibile quello che Cristian ci ha permesso di fare lì ho incontrato Giudi Siena Luca Borreani Valerio Pezzano Micco Sentino e tantissime altre persone che stavano iniziando a buttarsi in questo nuovo mondo che era il digital marketing attenzione perché il digital marketing ovvero la capacità di creare clienti dal nulla è una high income skills ok è una capacità altamente monetizzabile sai perché? perché non c'è il limite al denaro che un imprenditore ti può pagare se tu gli dici guarda ti porto 10 clienti guarda se mi dai 10.000 euro al mese te ne porto 1000 quanti soldi fai? 100.000 te li dà ti dà 10.000 euro al mese se tu gliene porti 100.000 quindi quella capacità altamente monetizzabile era la via quindi io e Matteo Pittaluga nel 2015 decidiamo di imparare a fare web marketing e la prima cosa che facciamo è investire investire nella formazione andiamo alla Dark Post Profits Academy di Chris Record che è stata veramente un'ancora di salvezza iniziamo a formarci a fare test e Matteo si sviluppa poi nel marketing digitale ma io mi fermo troppo presto non credevo che quello fosse o meglio mi annoiavo ero sempre stato abituato a girare il mondo a intermediare a parlare mille lingue a fare progetti impossibili tipo James Bond in missione segreta o Tom Cruise in mission impossible e quindi mi rompevo le palle io di stare lì a fare le ads e quindi lasciai perdere e mi misi nel 2016 a creare siti web attenzione perché il web design è un high income skill è una capacità altamente monetizzabile chi è un web designer che sa fare cose uniche sul mercato quanti soldi fa? fa un pacco di soldi e quindi decisi di specializzarmi non più in web marketing perché avevo già il mio socio che stava studiando questa roba e dicevo sì dai la studierò dopo e mi sono messo in proprio a studiare web marketing web design e mi sono trasformato in un nerd che stava davanti al pc a programmare quando non dovevo farlo perché se tu sei un imprenditore non devi impazzire con la tecnologia non devi fare questo lavoro devi farlo fare chi lo sa fare perché imparare a fare web design come capacità altamente monetizzabile ci vogliono degli anni non puoi diventare unico sul mercato in poco tempo e quindi quello fu uno dei miei più grandi errori di cui ne parlo sempre anche nei miei podcast sicuramente l'hai sentito l'hai sentito nominare vediamo un po' se ci sono delle domande allora 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 vediamo un po' vediamo un po' ti capisco benissimo allora ho imparato lo spagnolo in spiaggia mi sono presentato dicendo che già lo parlavo poi mi sono sciolto vendendo grandissimo Mario mi mancavano questi grandi dettagli interessatissimo quello che ci dici dai ragazzi fatemi sapere nei commenti fatemi alcune domande perché fra poco voglio condividere fra pochi minuti la vera svolta della mia carriera e la vera svolta quando ho deciso di sviluppare la mia carriera professionale attorno a due high income skill a due capacità altamente monetizzabili che mi hanno reso unico sul mercato che mi permettono oggi di caricare 500.000 euro l'ora se non di più a seconda del progetto che mi si presenta per aiutare l'imprenditore libero professionista in quello specifico argomento cosa mi ha spinto a parte la disperazione che non riuscivo più a fare risultati non riuscivo più a fatturare ad imparare altre due high income skill due capacità altamente monetizzabili che hanno stravolto la mia vita in questo momento ti sto facendo sono in diretta dal mio secondo studio non sono in sede in Spagna sono in sede in un grattacielo di 30 piani in un attico di lusso a Dubai Marina perché Dubai Marina perché per chi lavora online oggigiorno arrivare a lavorare con un'azienda propria negli Emirati è il top è il top a livello strategico e quindi molte persone dicono sì ma cambiate posto voi che fate web marketing oppure che fate marketing digitale o comunque lavorate online no non cambiamo posto perché chi lavora in questo luogo e ci lavora con la propria azienda vuol dire che ha fatto un pacco di fatturato non puoi fare il fake è un po' come quello che fa il fake che gira in Lamborghini affittata a quello che fa il fake col jet privato proprio quindi è un po' una differenza che uno che vive nelle case popolari in Italia e ti fa dei live sul web marketing non lo può capire questa differenza perché sopravvivere in un mercato come questo caro amico ha dei costi fissi che equivalgono minimo 4-5-0 vuol dire che tu parti da 50-100 mila euro di costo fisso solo per muovere l'azienda qui quindi quello che stai vedendo è il continuo di un film di una persona che è partita sviluppando high income skills per sopravvivere negli Stati Uniti è tornato nel mondo reale ha fatto l'imprenditore ha sbagliato strada ha capito la strada giusta ha sviluppato delle high income skills per gli imprenditori per aiutarli a fare più soldi e oggi si ritrova in una posizione di poterti spiegare il perché anche tu dovresti fare questa scelta sviluppare capacità altamente monetizzabili quanto ti sta sulle palle quando ti dicono c'è già qualcun altro che fa il tuo lavoro sentivo già storie c'è un mio amico Ferrara che mi ha detto Fabio io faccio social media management gestisco i facebook insomma delle aziende e le aziende preferiscono risparmiare dando in mano i propri social media a dei ragazzini di 18 anni che magari costano poco eccetera sai perché sai perché perché la tua capacità altamente monetizzabile di prendere un social e aumentare il fatturato non è così sviluppata perché se tu vai da un'azienda e gli dici ok ti sta gestendo il social il social media il ragazzino di 18 anni a 100 euro al mese benissimo io te lo gestisco a 1000 euro al mese ma te ne faccio fare 10.000 garantito se non succede non mi paghi secondo te l'azienda cosa sceglie sceglie te che gli hai appena sbattuto in faccia un risultato monetario misurabile perché tu hai una capacità altamente monetizzabile con delle prove dietro per questa ragione ti voglio parlare direttamente face to face in questo live per farti capire che se non sviluppi oggi capacità altamente monetizzabili che ti rendono unico sul mercato puoi tornare a cercare lavoro a fare il dipendente a 1000 euro l'ora io lavavo i piatti in provincia di Rovigo mi ricordo come fosse ieri quando staccavo la ruggine con un panzone di fianco a me analfabeta che aveva la terza media e tornavo da un anno negli Stati Uniti in cui ho guadagnato 7-8 mila dollari al mese e sono tornato comunque in una realtà in cui quella capacità altamente monetizzabile non era così tanto importante quindi ti sto parlando con il cuore spero che questo arrivi allora vediamo un po' vediamo un po' è difficile capire quale income schifo sviluppare adesso Igor ne parliamo allora fammi sapere nei commenti siete in 65 in diretta voglio vedere 65 commenti scrivi 10 se ti gasa di brutto questo argomento scrivi 0 se ti fa schifo questo argomento pensi di sapere tutto te e pensi che quello che ti sto spiegando in questo live non abbia alcun valore fammi sapere nei commenti voglio sapere un po' se c'è qualche hater nel live perché siamo quasi arrivati al momento di condividere l'unico incredibile video unico che Thomas Hopold il nostro videomaker ha sviluppato oggi chiedo alla regia di preparare questo video nel frattempo votate scrivi 10 se ti gasa di brutto questo argomento di questa sera scrivi 0 se non te ne frega una mazza intanto ti faccio vedere questo video dico alla regia di aspettare un secondo cosa di cosa parla questo video questo video parla di una capacità altamente monetizzabile chiamata closing ok chiusura del vendite ok una delle due capacità altamente monetizzabile su cui mi sono specializzato nell'ultimo anno una capacità che è uno sport totalmente differ e differente dal vendere ascoltami bene tu pensi di saper vendere ok ma saper chiudere una vendita saper prendere i soldi fatturare è un altro sport voglio farti vedere questo video ci vediamo fra due minuti e continuiamo a parlare di capacità altamente monetizzabile tu devi diventare un closer non serve a niente generare contatti e non chiudere avete paura di chiudere chi ha avuto paura di chiudere la sua carriera quando il cliente tirava fuori i soldi tu non glieli prendevi tante persone hanno paura di prendere i soldi perché magari non se li meritano magari abbassi il prezzo dove è Noemi a Noemi in una coaching gli ho detto Noemi quanto ti fai pagare X ok prendi il doppio perché? perché te lo meriti tu non dai preventivi dai soluzioni soluzioni se io ho un problema e so chi sei e tu mi risolvi il problema io ho fretta sto soffrendo devo pagare voglio pagare per stare meglio per risolvere il mio problema no preventivi ma soluzioni però il soldo è uno scambio energetico non è un pagamento ricevere soldi è giusto per te perché stai dando soluzioni e stai togliendo dalla sofferenza il cliente questo ti cambia il business e non mandare preventivi nella chiamata ciao allora il nostro servizio il nostro sito web costa 3.000 euro perfetto sì dai mandami un preventivo ci devo pensare quel cliente non lo vuoi sì o no forse non va bene non lavori con me non voglio te come cliente non potete avere persone che vi portano via la vita l'energia se non l'hai chiusa dal telefono o dal vivo come fa a chiuderla un email una persona non la guarda neanche quanti di voi mandano preventivi e non fatturano niente ti è mai capitato di mandare preventivi IVA inclusa no preventivi ma soluzioni quindi scrivi questa frase i soldi sono il risultato di uno scambio energetico tra me ed il cliente a cui fornisco una soluzione se non gli dai la soluzione sei uno scammer esci dal mercato subito quindi questo scambio energetico deve esserci se tu non gli dai e gli prendi i soldi lì ti bruci tutto eccomi tornato qui in diretta spero che tu abbia apprezzato questo video mi è piaciuto tantissimo oggi il nostro il mio videomaker il mio carissimo amico e socio thomas mi ha mandato questo video e davvero mi ha emozionato perché perché quando trovi la capacità altamente monetizzabile che ti piace che ti fa battere il cuore ti posso assicurare che game over ok quando decidi che quella è la tua via e vuoi diventare eccellente in quella cosa beh non c'è nulla che che ti possa fermare quindi quello che ti sto raccontando in questo live è la mia esperienza ti sto parlando di capacità altamente monetizzabili nel mondo digitale nel mondo online nel mondo che ti permette di farlo da qualsiasi posto dove vuoi nel mondo in giro in viaggio a casa in cucina dove ti pare perché? perché se sei un imprenditore magari sei un artigiano anche tu hai una capacità altamente monetizzabile se sei un fenomeno a fare dei lavori artigianali unici cioè le capacità altamente monetizzabili dipendono anche dall'attività che fai quindi quello che di cui ti voglio parlare questa sera e di cui ti sto parlando è il il traguardo un po' che ho realizzato poi alla fine di questo viaggio imprenditoriale che è quello di specializzarmi non più in web marketing perché quando tu ti associ con qualcuno che diventa eccelso eccellente in quella high income skill allora devi completare il suo lavoro e sviluppare delle capacità altamente monetizzabili attorno a quello che è la capacità unica del tuo socio perché? perché così si crea il successo quindi ho deciso di sviluppare grandissime capacità in due elementi il primo si chiama posizionamento online posizionamento strategico ovvero chi sei tu? perché fai quello che fai? perché dovrei pagarti? perché proprio te? cosa fai di diverso dai concorrenti? perché quando ho un problema tu me lo risolvi e non l'altra persona me lo risolve? perché? perché non mi dici cosa risolvi? perché dovresti pagarmi? questo è un processo complesso di analisi sia della competizione ma la competizione realmente se fai questo bene non esiste più perché ti posizioni in maniera unica e attorno al posizionamento quindi decidi chi sei attorno al posizionamento fai un lavoro di branding ovvero di posso dirti di scolpire il tuo personaggio la tua azienda attorno al tuo posizionamento che ti determina poi il 90% del lavoro perché quando tu sei ben posizionato scriviti questa formula posizionamento online ben fatto per marketing digitale che ti crea contatti interessati a quello che fai per capacità di prendergli maledetti soldi perché se tu generi contatti e puoi risolvergli il problema ma poi non fatturi allora hai un problema psicologico di mindset è un problema una limitazione una paura del successo dicono che la più grande paura non sia quella di mettersi in gioco o di essere giudicati ma la più grande paura delle persone che si mettono in gioco ad alto livello è quella di avere successo e quello che succede poi non so se ti è capitato ma io lo vedo ogni giorno vedo tante persone che arrivano a un passo dal successo vero e poi tornano indietro si autosabotano si distruggono tornano in contatto con le persone del passato e in qualche modo non riescono più a ritornare da dove sono passati in marketing genius ti posso dire che a parte le persone che sono andate così ci sono persone che sono andate così e poi ci sono schiantate persone che sono partite dal lavorare in una discarica hanno creato la loro azienda a un passo del successo hanno detto non me lo merito mentalmente si sono spente e sono tornate a lavorare nella discarica quindi quello che ti sto dicendo è che quando questo succede è perché non hai sviluppato della capacità altamente monetizzabili e non hai cambiato il modo in cui ti vedi il modo in cui ti percepisci la tua autostima questo è fondamentale tutto quello di cui ti sto parlando questa sera sono aspetti tecnici ma quello che veramente devi cambiare è il modo in cui ti vedi il modo in cui ti percepisci in questo periodo sto seguendo un percorso spirituale di un monaco buddista un monaco tibetano di cui ne ho parlato anche alla convention di Cervia il suo nome è Danda Pani un nome abbastanza ridicolo ma grandissimi contenuti questa persona mi sta insegnando ad essere presente ad essere consapevole della situazione di vivere il momento e di spostare la mia consapevolezza dove voglio di spostare la mia percezione dove voglio come voglio senza farmi influenzare dall'esterno perché nel business anche se tu impari a chiudere le vendite a posizionarti a fare copywriting a fare siti web pazzeschi a fare consulenze tutti questi sono high income skills sono capacità altamente monetizzabili perché ti possono rendere unico sul mercato se tu impari tutto questo ma poi non sei consapevole non riesci a isolarti da tutta la schifezza che ti si crea attorno alle persone che iniziano a essere invidiose i vampiri energetici gli amici sfigati che ti dicono ma cosa fai perché stai per avere successo non mi lasciare indietro ed è proprio questa tua paura di lasciare indietro le altre persone che ti porta ad autosabotarti e questo percorso che ti sto illustrando di passare attraverso lo studiare l'implementare creare capacità altamente monetizzabili non ha senso se tu non cambi a livello spirituale quindi quello che ti sto insegnando questa sera è si sviluppare capacità altamente uniche e monetizzabili puoi scegliere qualsiasi cosa lavori online puoi scegliere di diventare un copywriter ovvero una persona che riesce a vendere con le parole un webmaster un funnel master ovvero una persona che crea sistemi di vendita per gli altri un digital marketer fra pochi minuti abbiamo il terzo webinar del corso universitario ad alta specializzazione sul marketing digitale di cui io e Matteo siamo docenti universitari quelle persone sviluppano capacità altamente monetizzabili ma poi se qui dentro non sono programmate bene non servirà a nulla a quel percorso puoi sviluppare capacità di vendita e di chiusura delle vendite ma poi se hai paura di progredire non riesci a reggere l'energia del denaro può essere un fenomeno a livello teorico ma poi se ti trema la voce quanto costa 2000 euro 2000 euro però se vuoi ti faccio uno sconto non preoccuparti 2000 euro tre rate costa 2000 euro ma non costa 2000 euro se la tua percezione dei soldi che devi ricevere è errata lascia perdere devi prima riprogrammarti a livello personale e iniziare a capire quello che ti ho detto in quel video tu meriti di essere pagato se e solo se risolvi problemi che altri non riescono a risolvere ok spero che questo ti possa aiutare di brutto Fabio sei chiarissimo grazie mille allora perché ti sto parlando di questo argomento devo esserci dal vivo con voi due grande Lisa e il prossimo evento dal vivo che faremo sarà a Milano quindi sarà Milano in ottobre e fino a Milano abbiamo un evento in realtà molto ristretto per 15 persone massimo che si farà a Dubai il 22 23 24 marzo 2019 se stai vedendo questo video in differita l'hai già perso mi dispiace è un evento molto molto riservato sono tre giorni assieme a me Matteo Luca Borreani Nicolo Manica che per chi non li conoscesse ragazzi quello che stanno facendo questi due ragazzi nel mondo dell'e-commerce che tra l'altro il loro corso sta chiudendo i battenti proprio adesso perché ci sono troppi studenti dobbiamo chiudere le porte chiudere il rubinetto perché non riusciamo più a gestirli queste persone l'unione di questi quattro menti le nostre menti la nostra esperienza la nostra resilienza la voglia di combattere hanno creato dei mostri l'ultimo evento ti posso fare un esempio per ogni persona una persona Luigi Sorrentino si occupa di calzature a livello commerciale a livello di produzione Luigi Sorrentino in questo momento è impazzito gira tutta l'Italia sta unendo le più grandi case di calzature per creare un progetto di import qui negli Emirati Arabi e lui è partito con un piccolo negozietto di calzature che andava male che rischiava di chiudere Claudia Bellan grandissima professionista nel mondo del benessere ha creato il suo mondo del benessere in un centro benessere chiamato Sangat che rischiava di chiudere prima che entrasse in contatto con chi ti può dare la mappa per cambiare la tua mente e cambiare le tue capacità e ricordati che se tu non hai successo massivo vuol dire che se tu non sei in pensione vuol dire che se tu in questo momento smetti di lavorare e muori di fame ovvero non sei libero finanziariamente oggi significa che ti mancano degli elementi che solo un mentor ovvero una persona che c'è già passata ti può dare la ragione per cui tu fallisci non è perché non studi non è perché non ti impegni non è perché non ti metti in gioco è perché hai problemi di compromesso e sei solamente interessato sono interessato all'internet marketing devi essere compromesso giorno e notte nell'internet marketing penso di farcela da solo non puoi farcela da solo se ce la potessi fare da solo non saresti nella M in questo momento hai bisogno di una guida il tuo ambiente che ti circonda è uno dei grandi problemi non puoi progredire e fare successo se vuoi rimanere ancorato hai paura di lasciare indietro gli altri io ho dovuto lasciare la mia famiglia tutti i miei amici tutta la mia vita passata per ridefinire la mia persona a breve posterò una foto struggente 2010 quando ero all'aeroporto di Bologna ho dovuto lasciare i miei genitori non li ho visti per un anno e mezzo solo per andare dall'altra parte del mondo e giocarmela hai le palle per fare questo tu? o pensi ancora che se facciamo l'evento a Milano e tu vivi a Piacenza non puoi venire all'evento perché lo dobbiamo fare sotto casa tua il sotto casa tua funziona solo se vuoi andare al bar a spaccarti con dei loser che non hanno mai combinato una mazza nella loro vita se invece sei compromesso non sei interessato sei compromesso sei disposto a distruggere i paradigmi a distruggere tutte le persone negative attorno a te a trovare una guida un mentore e a cambiare ciò che ti circonda allora puoi farcela allora queste capacità altamente monetizzabili le puoi sviluppare sono sicuro che le puoi reggere ma Fabio Gallerani nel 2019 parla solo di due cose parla di posizionamento unico sul mercato e questo ha fatto la differenza per tantissimi professionisti parlavo recentemente con una grande coach italiana Giovanna Danesi lei ha il suo articolo su Donna Moderna parlava di counseling familiare poi parlo con Giovanna e lei mi dice Fabio ma me ciò che mi gasa è aiutare le aziende il coaching per gli imprenditori che stanno soffrendo e devono farcela organizzare i team e io dico perché Giovanna allora parli di mediazione familiare perché parli tutta sta roba lei ha detto perché avevo bisogno di te che mi dicessi chi sono e perché le persone devono pagarmi in questo si chiama posizionamento quindi posizionamento vuol dire che finalmente tu trovi chi sei e decidi per sempre decidi perché le persone devono pagarti a livello professionale e poi quello che mi preoccupa non è tanto insegnarti a generare contatti perché su quello hai il corso migliore al mondo perché recentemente abbiamo acquistato un corso di uno dei nostri ex mentor sul traffico internet ovvero come generare contatti attraverso facebook youtube abbiamo visto la differenza abissale che c'è tra il corso all in che tra l'altro il 30 gennaio finalmente aumenta di prezzo perché ti posso dire che per noi è una sofferenza totale svenderlo in questo modo aumenterà di prezzo perché viene aggiornato e diventerà l'unico corso sul marketing digitale che ti spiega cosa cliccare ma ti rendi conto che ci sono dei guru della gente là fuori che dice uno ho la verità assoluta due non serve a niente spiegarti come fare le ads come fare le campagne ti devo spiegare la strategia si bel però quando vai sul web e hai bisogno di saper impostare una campagna facebook e non sai dove mettere le mani e bruci mille euro in 24 ore ti ricorderai le parole di quello che diceva ti insegno step by step cosa cliccare cosa fare questo è quello che fa matteo pittaluga ed è questa la ragione per cui io non sono preoccupato con te che mi segui nei miei contenuti di insegnarti a fare contatti perché se segui matteo pittaluga e segui il corso lean e segui marketing genius che qui dietro c'è il simbolo della nostra tv digitale l'unica tv in italia degli imprenditori digitali allora tu sai generare contatti quello che mi interessa e quello che hai visto nel video è che tu gli prendi maledetti soldi perché non è il prodotto che vendi non è il servizio che offri è la tua capacità di dire finalmente è arrivato qualcuno che ha un problema glielo devo risolvere e mi merito il denaro tu non sei obbligato a risolvere i problemi a nessuno sei tu che decidi se accettare quel cliente o no il cliente è nella sofferenza tu no quando io vado a comprare una bottiglia d'acqua io sto morendo di sete la cassiera non sta morendo di sete il supermarket non sta morendo di sete il proprietario del supermarket non è non sta morendo di sete sono io che ho bisogno della bottiglia d'acqua e lui mi dice giustamente qui negli Emirati una bottiglia d'acqua 3 euro sono 3 euro paga e mi prendono i soldi in maniera selvaggia quindi questo tipo di mindset lo devi trasferire al tuo business quindi io mi occupo di farti capire chi sei e prendere i maledetti soldi fine perché se tu impari a generare contatti e poi non sei chiaro e non si capisce cosa fai e hai paura non serve a niente non serve a niente per te studiare Facebook Instagram influencer questo gran cazzo non serve a niente lo capisci? allora bene dopo questo vaneggio assoluto tipico del power hour vi saluto parole fortissime live stradisumano grazie a tutti voi che siete gasatissimi detto su queste parole ho deciso finalmente nel 2019 oggi ho fatto un sondaggio nel nostro gruppo privato di oltre 1800 imprenditori ho chiesto ragazzi visto che sapete tutti generare contatti perché sono tutti i nostri studenti che sanno fare marketing digitale vi interesserebbe se creo un programma che ti dice come posizionarti come prendere i maledetti soldi cioè praticamente c'è la sbarra del si fallo subito che è uscita dal telefono ok quindi nel 2019 da parte mia ti puoi aspettare uno dei programmi più esplosivi a livello mondiale perché lo farò in tre lingue ti ricordo che Fabio Gallerani parla tre lingue se sei spagnolo e non capisci l'italiano avrò il corso per te lo vuoi attenere parati un corso per posizionarti in internet e serrar la sventa e ganare dinero e se parli inglese è la stessa cosa non parli inglese perché ho un accento veramente orrido ma dicono che l'accento italiano in inglese spacca di brutto quindi se sei italiano e parli da cani in inglese non imparare l'accento british per favore mantieni il tuo accento che vendi di più te lo posso assicurare perché io vendevo proprio per il mio accento italiano bene allora qui negli Emirati non dico neanche più Dubai perché se no qualche debole di cuore poi si rompe e quindi siamo negli Emirati è quasi mezzanotte e noi non ci fermiamo perché adesso chiudiamo questo power hour e inizierà il webinar del corso universitario ad alta specializzazione che tra l'altro ha riaperto le iscrizioni per un tempo limitato perché abbiamo avuto troppe richieste e comunque è iniziato da solo un mese e mezzo dura più di sei mesi con un workshop a Barcellona dal vivo ecco se vogliamo incontrarci dal vivo se non riesci a venire al Mastermind a Dubai che tra l'altro non puoi decidere tu se vieni perché noi analizziamo la tua richiesta puoi venire a Barcellona incontrare me e Matteo se sei parte di questo corso universitario ad alta specializzazione che ti sviluppa capacità altamente monetizzabili come quelle del marketing digitale anzi parliamo anche di posizionamento tra l'altro a febbraio sei appena in tempo perché ho appena inviato oggi oltre 80 minuti di contenuti e non è altro che un terzo di tutti i contenuti che andrò a presentare a febbraio parlerò di posizionamento di branding di branding aziendale personale di customer service e anche di podcast ho creato un modulo unico per creare il tuo podcast pubblicarlo sul mercato e semplicemente diventare conosciuto per gli argomenti che tratti quindi davvero ci sono tante occasioni per incontrarmi dal vivo incontrarci dal vivo anche con il mitico Matteo Pitaluga e sono veramente felice di essere tornato in diretta per me quando avevo l'influenza quando stavo male non stavo male per l'influenza stavo male perché non potevo essere in diretta con te non potevo condividere informazioni di valore non potevo aiutarti e questo quando ti succede ti posso assicurare che sei sulla buona strada per aver trovato finalmente ciò che ti fa sentire vivo e ciò che ti può aiutare davvero a fare la differenza sul mercato vediamo un po' se la regia sul pezzo perché voglio chiudere con una mitica sigla del Power Hour io sono Fabio Gallerani punto di riferimento di imprenditori e liberi professionisti che vogliono di più dal proprio progetto dalla propria carriera quindi direi di tornare sul primo video e di chiudere questo Power Hour in cui abbiamo parlato di capacità altamente monetizzabili una storia vera che ti può ispirare a fare del tuo meglio ti mando un abbraccio ciao ciao